Un volo interrotto quello di Federica che riprenderà attraverso i passi e le gambe di tutti coloro che parteciperanno alla camminata delle farfalle in mezzo ai sentieri castiglionesi. Le farfalle ovvero tutte quelle persone che come Federica Canneti hanno visto la loro vita spezzata prematuramente nelle più varie circostanze. L'iniziativa prevede un percorso di bassa e media difficoltà di 10 chilometri con partenza alle 9 del 13 novembre da Piazzale Garibaldi a Castiglion Fiorentino. Una partecipazione libera sostenuta da vari enti con una grande unione di intenti prende corpo una bellissima iniziativa dedicata a tutte quelle farfalle che hanno interrotto il loro volo, commenta il sindaco Agnelli nella sua pagina Facebook. La camminata aperta a tutti vedrà il coinvolgimento spontaneo di tanti amici della famiglia Canneti, delle associazioni dei Rioni e della comunità castiglionese non solo che si vorranno unire in questo momento di riflessione collettiva conclude. Riflettere su un dato di fatto quello della velocità che sempre più pare essere all'origine dell'incidente del 7 ottobre dove ha perduto la vita la 22enne studentessa prossima alla laurea. Le indagini della Polizia Municipale di Arezzo vanno avanti e dovranno chiarire molti aspetti di una tragedia davvero senza confini.